Buongiorno a tutti da Autocazzaniga. Oggi vi andiamo a presentare un'auto usata che abbiamo in vendita presso la nostra concessionaria. Da super appassionati di 4x4 e di fuoristrada vi andiamo a presentare questa stupenda Fiat Panda 1200 69 cavalli 4x4 modello 169. L'auto è in condizioni pari al nuovo, sembra appena uscita dalla fabbrica Fiat. Attenzione che è uno degli ultimi esemplari prodotti di Panda 169 a trazione integrale. Infatti la vettura è della fine del 2012. Caratteristiche di questa auto che vi do intanto che vi faccio vedere una carrellata dell'auto è il fatto che è adatta ai neopatentati, è unico proprietario e rispetta la direttiva CE e antinquinamento Euro 5. L'auto inoltre è stata regolarmente e scrupolosamente tagliandata nel corso degli anni e i chilometri percorsi sono 47.662. Una caratteristica di questa auto è anche il fatto che ha moltissimi accessori in più rispetto alla serie. Vi posso dire che ad esempio le gomme sono delle Bridgestone Dweller HT che sono M più S e sono utilizzabili sia nel periodo estivo come uso fuoristradistico che nel periodo invernale. Quindi potete utilizzarle per tutto l'anno. Questa auto ha numerosissimi accessori in più rispetto alla serie. Partendo dall'esterno possiamo vedere che l'auto ha in dotazione i fari fendi nebbia. Internamente invece Francesco puoi aprire la vettura e farci vedere che innanzitutto l'auto ha il quinto posto che su Panda è sempre un optional. Quest'auto quindi può trasportare 5 persone. Altro accessorio caratteristico è il climatizzatore manuale con filtro antipolline. L'autoradio integrata fa accendere Francesco con il lettore cd mp3. Il cassetto porto oggetti sotto al sedile lato passeggero. Il sedile di guida regolabile in altezza. Guardiamo ora come sia tenuta veramente bene sia internamente che esternamente l'auto. Gli stessi sedili sono molto belli. Attenzione puoi abbassare il cassetto porto oggetti per mostrare a tutti voi il sedile Francesco. Ecco sia davanti che dietro l'auto in condizioni pari al nuovo. Un ultimo accessorio è la ruota di scorta di dimensioni normali. Eccolo qui. E passiamo ora a mostrarvi anche il volante che è uno sportivo a tre razze regolabili in altezza. C'è anche l'antifurto infrarossi con comandi a distanza integrati nella chiave e il computer di bordo. Passiamo ora a vedere il cuore di quest'auto ovvero il 1.2 Fire 69 cavalli in condizioni pari al nuovo. Puoi chiudere pure tutta l'auto Francesco. Vi ricordo che su questa auto offriamo una garanzia totale di 12 mesi. Si tratta di un'auto particolarissima che arriva dove molti altri fuori strada non arrivano in quanto ha la caratteristica di essere molto agile, molto stretta e molto corta. Come vedete esternamente le barre al tetto, le fasce paracolpi laterali e la carrozzeria totalmente in tinta sono caratteristiche di serie del modello climbing. Vi aspettiamo presso la nostra sede per vederla e provarla e per rendervi conto di quanto questa auto sia simile al nuovo. Credetemi ma finché non verrete a vederla dal vivo non crederete ai vostri occhi di quanto sia veramente in condizioni impeccabili questa stupenda Panda 4x4. Vi ricordo che sul nostro sito autocazzaniga.com potrete vedere una scheda dettagliata con numerosissime foto dell'auto, una descrizione particolareggiata che se per caso adesso ho messo qualcosa potete trovare nella descrizione sicuramente tutto di questa auto e il relativo prezzo. Vi ricordo che siamo presenti anche sulla nostra pagina facebook come autocazzaniga e anche lì troverete le foto dell'auto. Vi aspettiamo presso la nostra sede e con questa ultima immagine di questa stupenda Panda Auto Cazzaniga vi saluta e vi dà un arrivederci al prossimo video. Un saluto da Davide Cazzaniga. Ciao a tutti!